pace e bene cari amici bentrovati alleluia cristo e risorto l'annuncio della pasqua è come un lampo di luce capace di attraversare e squarciare le tenebre più fitte specie di questo tempo buio e doloroso epidemie povertà e morte sembrano far da padrone sembrano aver inghiottito tutto sembra quasi che nessuno possa aprire i sigilli del sepolcro nel quale ci troviamo e invece non è così delicato incisivo luminoso e caloroso si leva l'annuncio della pasqua cristo e risorto in lui la morte è vinta la sofferenza redenta la croce non ha l'ultima parola e collocazione provvisoria come disse felicemente don tonino bello e allora percorriamo insieme il vangelo della veglia della notte provando a identificarci ancora più intensamente nelle donne e nei primi discepoli alle prime luci dell'alba ecco le donne correre al sepolcro matteo specifica che vanno a visitare la tomba sì gesù aveva risuscitato a questa vita almeno tre persone aveva detto che sarebbe risorto ma la morte la morte l'hanno visto crocifisso morto chiuso in un sepolcro e vanno per vedere la tomba potremmo dire che si aspettano di trovarlo morto in quel luogo di morte come se tutto fosse finito come se quella sofferenza non avesse più nulla da dire possiamo quasi immaginare quei passi il passo tipico di chi va a piangere la persona amata di chi non si può raccapacitare che tutto sia finito in quel modo chissà forse i volti pallidi bagnati dalle lacrime e la domanda come può essere finita come può essere morto l'amore eppure eccole lì davanti al sepolcro tra il dolore e l'incapacità di rassegnarsi di accettare che tutto debba finire così a differenza dei discepoli dei maschietti chiusi nel cenacolo in preda allo sconforto forse in cerca di soluzioni le due donne invece sono lì capaci di non fuggire di resistere con quella capacità tipicamente femminile di stare nell'attesa coltivando la ricerca l'interiorità facendo quasi da collante tra il risorto e i discepoli facendo eco delle parole di gesù nel volto di queste donne forse ci sono molti dei nostri volti forse troviamo anche il mio e il tuo portiamo dentro la certezza della fedeltà di dio ma le tenebre sembrano esser troppo fitte e c'è una lotta fidarci oppure no credere oppure no le donne vanno al sepolcro vanno aspettandosi di trovarlo sigillato in fondo ognuno di noi come ha detto don tonino bello ha una pietra enorme messa l'imboccatura dell'anima che non lascia filtrare l'ossigeno che opprime in una morsa di gelo che blocca ogni lama di luce che impedisce la comunicazione con l'altro è il macigno della solitudine della miseria della malattia dell'odio della disperazione del peccato questo momento del coronavirus siamo tombe alienate ognuna col suo sigillo di morte queste donne vanno lì certe di trovare una tomba chiusa e invece ecco un terremoto un angelo rotolò la pietra e si pone a sedere su di essa segno dell'intervento di dio che vince la morte proprio in quel luogo di morte dove la forza umana nulla può ecco l'intervento di dio con dio irrompe la vita dove la vita non potrebbe sorgere volendo usare un'immagine pensate ad un tunnel fino a prima di cristo la morte era un tunnel nel quale tutti si infilavano e nessuno sembrava uscire cristo invece lo attraversa lo sfonda dall'altra parte rivelandoci l'uscita di questo tunnel per chi si fida di dio e ama l'eterna comunione con lui dio spalanca rotola massi e proclama la verità e attraverso l'angelo dice gesù il crocifisso è risorto non è qui come aveva detto quella stessa vita strappata distrutta annichilita sulla croce si è risvegliata e torna a palpitare di nuovo ha detto guardini sì le parole dell'angelo ci riempiono di gioia gesù il crocifisso proprio lui proprio quello che ha amato sin lì è risorto non è qui non lo trovi nella tristezza non lo trovi nei luoghi di morte l'angelo invita le donne a non aver paura e a ricordare quanto aveva detto gesù che sarebbe risorto vedete è la rilettura dei fatti alla luce della parola di gesù che ci aiuta a saper scorgere segni di vita anche nelle zone apparentemente di morte io posso pensare che un evento doloroso addirittura la morte di una persona sia soltanto un triste nefasto epilogo oppure posso aprirmi a un disegno provvidenziale che mi supera e sapere che la vita è in mani più grandi delle nostre e la rilettura dei fatti alla luce del vangelo che li illumina di eterno e l'angelo dice alle donne gesù non è qui e avanti vi precede e oltre non è chiuso nella tomba non è confidabile in nostalgici ricordi è vivo e chiama far pasqua anche a voi ad uscire con lui dalle vostre tristezze dai vostri sensi di colpa e come può avvenire tutto questo come possiamo noi fare pasqua cosa fanno le donne accolgono questa parola e si mettono in cammino si fidano di quella parola si fidano potremmo dire di gesù che risorto quindi noi possiamo fare pasqua e vivere da risorti passando da noi a dio dal mio io a dio dalla fiducia nella mia testa alla fiducia in lui dall'obbedienza ai miei schemi all'obbedienza alle sue parole passando da un modo di vivere egoista ed egocentrico al vivere da figlio di dio lasciandomi guidare da lui verrete in santa semplicità ognuno di noi potrebbe chiedersi qual è il mio sepolcro in questo momento qual è quella situazione che è più grande di me un vizio dal quale non riesco ad uscire un lutto che mi sta trafiggendo l'anima la paura della morte una malattia che mi sta lentamente consumando qual è quel luogo di morte dal quale io temo di non riuscire ad uscire da solo ecco proprio lì è il luogo dove dio vuole intervenire dove vuole rompere con la sua grazia per risuscitarci per infonderci nuova vita la sua vita la domanda potrebbe sorgere spontanea come devo fare vedete qui non si tratta di fare qualcosa io si tratta innanzitutto di lasciar fare dio si tratta di accogliere il signore risorto nella mia vita di lasciarlo entrare in me di accoglierlo come signore di frequentarlo nella preghiera nei sacramenti di ascoltarne la parola cercando di viverla cioè di entrare e vivere in relazione con lui tanto più ciò accade tanto più sperimenterò la sua vita nelle mie morti la sua liberazione nelle mie schiavitù la sua consolazione nelle mie lacrime e guardate che bello si fidano di quella parola e incontrano il risorto gesù va loro incontro e loro si prostrano per adorarlo quasi per trattenerlo e lo slancio del cuore che non vuol perdere più l'amato non temete dice loro il signore andate ad annunciarmi ai miei discepoli come a dire da ora sarò sempre con voi anche se invisibile agli occhi dio ha spezzato il muro della morte e sarà sempre con noi sta a noi non lasciarla la sua mano e lasciarci condurre da lui oltre le nostre difficoltà oltre la morte stessa e vanno piene di gioia ad annunciare il risorto quell'incontro con gesù quell'esperienza di lui e ciò che le fa ripartire in fretta e correre a dare agli altri la buona notizia come con loro siamo entrati nel sepolcro così con loro siamo invitati ad annunciare la notizia la notizia che cristo è risorto che l'amore di dio è più grande che cristo non ci abbandona neanche nell'ora della sofferenza e della morte che di lui ci possiamo realmente fidare che nelle sue mani anche le ferite più tremende che per amore possiamo aver subito diventano feritoie di luce andiamo ad annunciare andiamo a condividere che il signore è vivo con quella gioia volendo concludere con una piccola storia della piccola lucia una bambina che sentendo spesso parlare della crocifissione morte di gesù chiese alla nonna se gesù fosse morto vivo la nonna capì bene la domanda della nipotina andò ad aprire il vangelo e le lesse alcuni fatti le donne che erano andate al sepolcro il mattino dopo il sabato avevano trovato il sepolcro vuoto e proprio lì un angelo che aveva annunciato che gesù era vivo poi l'incontro di gesù risorto con i discepoli e quindi il nostro incontro con lui che si rende presente specie nell'eucaristia e lucia era piena di gioia qualche giorno dopo la nonna si recò con lucia alla messa domenicale c'era il sacerdote e un po di gente annoiata un po triste canzoni un po smorte chiesa mezza vuota senza giovani allora vedendo tutto questo lucia dopo un po disse alla nonna nonna ma loro lo sanno che gesù è risorto che il buon dio ti benedica